Attenzione, prossimamente pellegrini d'amore con Sofia Loren, Ada Mangini, Enrico Bializio, Charles Rutherford, Vic Day e Beppe Orlandi per la regia di Andrea Forzano. A voi, gente di ogni paese, pellegrini d'amore, il mio saluto, il mio messaggio di pace che a vostra volta porterete nel mondo. Secondo premio exequo, coppa d'argento per la pace, due mesi di soggiorno nel nostro paese, al signor Sigmund von Schwarzenhausen, Germania, e al signor Bill Miller, Stati Uniti. Parla, eh! Ma guarda, mio! Padrone idiota, ma dove andate? Ehi, bravo, si, va a chi fa adesso, in pianto, va a chi? A tre e un fifti, setanta tre notti, Giulietta, io, io, Giulietta. Settanta tre notti? Richtig! Tutte le notti? Tutte notti. Paccati il cervello, ma tu non esci da questa stanza se non hai trovato una ragazza sui venticinque, che possa essere la sorella. Beh, vabbè, facciamo la nipote. Ma insomma, che abbia una strana la somiglianza con questa. Giulietta, ecco gli amici di cui ti ho parlato. Oh! 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 Aspettate qui, eh! Oh! 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 Ma che vuoi, questo è un dato che... Mannaggia, la miseria sta muovendo! Ma io lo vediamo, ma sta posta perché vuoi? Il tantamento ho tutto! Che dè? Vedo, nonno, torniamo a terra Sigmund. Oh, mannaggia proprio de Marte Mare, dovevo morì. Pianzala, che meraviglia, la morì e pianzala, toffè! Norcinaro, Abaccaro, Macellaro, morto di Londra! Vedetelo che me la rovino! Fermi tutti! Pianzala, prendetelo! Pianzala, prendetelo! Vieni, vieni! Eh no, non finirà qui! Mio cognato, l'onorevole Berchieri, ne parlerà a Montecitorio! Eh sì, ne parlerà a me! Ma che aspetti, annaccio pure di a Montecitorio? Ma qua moriamo! Buon armi! Non. Grazie a tutti.